Le prime notizie di mercoledì 3 gennaio. La prontezza di riflessi di un brigadiere dei carabinieri, Ivano Garzia, ha salvato la vita a un neonato che rischiava di soffocare. E' accaduto a Collepasso, in provincia di Lecce, e a darne notizia è la sindaca Laura Amanta. Il militare, di pattuglia insieme a un collega, ha notato i due giovani genitori in agitazione davanti alla farmacia del paese. Il bimbo non respirava più a causa del suo stesso Muco. Grazie alla manovra di disostruzione effettuata dal brigadiere, il neonato ha ripreso a respirare ed è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118. Si aggrava il bilancio dell'incidente stradale avvenuto il 30 dicembre sulla statale che collega Canosa Barletta, nel quale aveva perso la vita Angelo Di Nunno, 82enne di Barletta. Ieri mattina è morta anche sua moglie, Viaggia Sarcinelli, di 77 anni. Viaggiavano a bordo di una utilitaria che entrò in collisione con un'altra vettura. Marco Raduano, il boss della criminalità di Vieste, ricercato dal 24 febbraio 2023, quando riuscì a scappare dal carcere di Nuoro, è uno dei tre italiani inseriti nella lista dei latitanti più pericolosi presenti nel sito dell'Europol con Enfast, la rete europea delle unità ricerche attive latitanti. Raduano, già condannato all'ergastolo, riuscì a fuggire dal carcere di massima sicurezza sardo semplicemente con un lenzuolo. Sono stati individuati dai carabinieri alcuni dei presunti responsabili degli atti vandalici avvenuti la notte di Capodanno in piazza Vittorio Emanuele, a Molfetta, tra cui il ribaltamento di un'auto fatta poi esplodere con i petardi. Si tratta di ragazzi, alcuni dei quali minorenni, che rischiano ora una denuncia per danneggiamento. Un incendio ha distrutto nel pomeriggio di ieri una parte del centro di stoccaggio rifiuti e isola ecologica della ditta Raccolgo, che a Minervino Murge si occupa di nettezza urbana. In fiamme, sei mezzi utilizzati per la raccolta differenziata porta a porta. Le fiamme sarebbero partite accidentalmente da uno dei camion parcheggiati nel deposito aziendale. Due auto sono state distrutte da un incendio l'altra notte a Foggia. Le vetture erano parcheggiate in Piazza Felici, nel centro storico. Le fiamme hanno danneggiato anche la saracinesca di un locale in disuso e il balcone di una abitazione sovrastante. Un uomo di 28 anni e una donna di 32 senza fissa dimora sono stati trovati in possesso di un piccolo tesoro. Durante un controllo nel loro giaciglio, in Piazza Italia a Lecce, la polizia ha scoperto gioielli in oro e pietre preziose, argenteria varia e persino attrezzi chirurgici, oltre a 3.600 euro in contanti, dei quali i due non hanno saputo giustificare la provenienza. Sono stati denunciati per ricettazione. I carabinieri del Nasti Taranto e la ASL hanno sospeso l'attività di un ristorante del capoluogo ionico in cui erano utilizzate sale di somministrazione prive di qualsiasi titolo autorizzativo ed edilizio. In provincia invece i militari hanno bloccato e rimosso immediatamente 160 quintali di farine detenute in un'attività di panificazione in ambienti privi dei requisiti minimi di gene. Calcio, Lega Pro, per ragioni di sicurezza. Il derby tra Foggia e Taranto, in programma il 6 gennaio, si giocherà a porte chiuse. Lo ha stabilito il prefetto di Foggia con una ordinanza che dispone la chiusura dello Zaccheria. Nella gara d'andata il settore ospiti dello stadio Iacovone di Taranto venne incendiato da tifosi dauni. Queste le prime notizie di oggi, appuntamento a domani.